Al via Castelli la terza edizione del Festival della Storia dell'Arte. Nato da un'idea dello scultore Nino Di Simone, istituito due anni fa, il Festival della Storia dell'Arte si pone l'obiettivo di portare a Castelli la sintesi degli eventi d'arte più importanti dell'anno. L'edizione 2010 proporrà, tra gli altri eventi, anche un incontro con Claudio Strinati, il curatore della mostra sul Caravaggio, che si è tenuto a Roma nelle scuderie del Quirinale. Il programma del Festival della Storia dell'Arte, che si terrà dal 10 al 28 agosto nel suggestivo Borgo Teramano, è stato presentato oggi al Don Juan di Giulianova dal sindaco di Castelli, Concezio di Flavio e Archimede Forcellese, assessore alla cultura di Giulianova. Location non casuale, Castelli, la città per antonomasia della ceramica d'arte, e Giulianova, subito dopo il sisma del 6 aprile, hanno attivato un rapporto di collaborazione per la riattivazione del turismo nel Borgo Montano, nel cui centro storico sono state danneggiate oltre 90 abitazioni. Grazie infatti ad un accordo con il comune di Giulianova e il Grand Hotel Juan, 12 tour operators hanno già inserito Castelli all'interno dei propri pacchetti turistici.